Vertenza Alba SRL si attende la proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per venerdì, nel frattempo la giunta francese ha prorogato il servizio igiene urbano e manutenzione del patrimonio comunale alla società in house per ulteriori tre mesi. In sostanza, come deciso negli indirizzi del Consiglio Comunale approvati a maggio scorso, la vicenda resta risolta, con tantissimi problemi e tante spese che continuano a gravare sui cittadini che attendono l'arrivo dei bollettini di pagamento con l'aumento annunciato nelle scorse sedute del Consiglio Comunale.